Chi è che ha guidato la macchina di Massimiliano fino a casa del ragazzo? Mi avevano detto che bloccava l'uscita del parcheggio, quindi io ho preso la chiave dalla tasca di Massimiliano e l'ho lasciata lì. Lì dove? Lì nel coso, come si dice, nel cruscotto. Cruscotto. Il tuo fidanzato sostiene... Non è il mio fidanzato. Massimiliano sostiene che la macchina è stata portata a casa da uno dei fratelli Crosetti che però giuro non gli erano mai usciti quella sera. Gli ho detto io. Mi sembrava possibile fosse andata così. Allora chi l'ha portata sta benedetta macchina? L'è venuto già San Cristofano a guidare lui? San Cristofano? L'è venuto già. Grazie per la visione!